Credo che quello che lui ha detto, cioè che questa occasione è importante perché è la prima volta che ci troviamo tutti insieme direi, vada capitalizzata, cioè deve essere una cosa che non rimane così, cioè intanto è la cosa più facile, scriviamo, chi già ce l'ha in parte, diamo questi testi, cerchiamo di farli circolare. E poi francamente direi, diamoci degli appuntamenti, perché credo che questa cosa, diciamo del Green Pass, ma non è solo il Green Pass, il Green Pass è diventato un significante, che può unificare, una trasversalità, dopodiché non si riduce alla questione del Green Pass, ci finisce dentro tant'altra roba, del resto il Green Pass stesso è stato, essendo stato esteso proditoriamente, con un atto di arroganza estrema, all'intero mondo del lavoro, tira in ballo le questioni sociali, ma poi ce l'ha dentro, perché l'abbiamo detto stamattina e ce l'hanno confermato i medici che erano qui, la gestione della crisi del coronavirus è stata tale anche perché, essendo stato demolito il welfare fondamentalmente e soprattutto la sanità, è stato più facile, diciamo, o forse è stato inevitabile, per loro è inevitabile gestirla così. Il dato che ricordavo stamattina, banale però, ma ce ne sono tanti altri che si possono dare, se negli anni 80 le terapie intensive erano il triplo, fossero state ancora quelle, praticamente non c'era ragione, non ci sarebbe stato problema, non avremmo avuto problemi. Io ancora ho una risposta a questa questione, essendo passati quasi due anni, non l'ho avuta, perché il primo mese va bene, due mesi va bene, tre mesi va bene, dopo venti mesi no. E poi ti viene il dubbio che forse si vuole coltivare questa emergenza e in più si pensa anche che tanto oramai quella storia è finita, cioè che l'unica cosa che si può fare è rifilare dei farmaci, non curare le persone, ma vaccinarle in un qualche modo. Ora io appunto, te l'ho detto pure stamattina, quando sento l'accusa no vax, lo stigma di no vax, mi imbufalisco perché, che vuol dire? Non vuol dire niente. Io non so contro i vaccini in assoluto, tantomeno quello contro quello sul vaiolo, figuriamoci. Ma il problema è che qui si tratta di discutere questi specifici vaccini, cosiddetti, che ci hanno spiegato stamattina, peraltro i luci studiosi, poi di fatto i vaccini non sono, sono nella terapia genica. E già tutta la serie di problemi, ok. Provo a dire qualcosina, però appunto non è che ho l'ambizione ulteriore, è qualcosa che mi è stato sollecitato, che era rimasta un po' appesa. E certo non ridico la cosa che ho già detto, diciamo questo, anche sentendo e conoscendo le cose di Giorgio Agamben, c'è un nodo di fondo. E poi anche alla luce di tutte le cose che ci hanno detto i medici stamattina, ma noi lo sappiamo comunque, perché poi ha a che fare con la questione della teologia politica, di Schmitt. Cioè qui la legittimazione scientifica o presuntamente scientifica ha sostituito quella religiosa. Insomma, il diritto da Murabi in poi si è basato sul sacro, poi diciamo nella modernità c'è stato un processo di laicizzazione, che io difendo, quello che c'è stato messo nel mezzo, diciamo arrivando alla democrazia costituzionale, eccetera, era una buona cosa direi. Cioè una legittimazione diciamo laica, pluralista, razionalista, con dei problemi, perché poi al fondo il riferimento, qualche un po' di assoluto lo deve incorporare o lo deve ricostruire, lo deve replicare. Ma insomma era un po' un equilibrio. E qui è saltato il tappo, perché poi è saltato il tappo, e tu se non credi più a niente, anzi credi nel niente, finisci per credere nel Green Pass. Cioè a qualcosa ti devi attaccare. Perché a me quello che colpisce è questa autoassegnazione di suprematismo morale. Cioè noi siamo di fronte al suprematismo morale, soprattutto dell'intelligenza e della pseudosinistra. Perché questa è la verità. Allora questa cosa va anche un po' scavata, cioè bisogna anche fermarsi se non è a ragionarci, perché è chiaro che dà fastidio. La prima reazione è quella di dire questi fanno di tutto, fra l'altro, per dare ragione a Carl Schmitt, perché questo insopprimibile bisogno di discriminare è proprio di dare ragione in tutto e per tutto. Cioè è proprio l'amico o l'emico, cioè non c'è niente da fare. Tu devi sempre trovare un nemico interno, quello esterno ok, ma quello interno, perché altrimenti non sta in piedi. Un ordine non sta in piedi, persino quando ti racconti di essere buono, di rappresentare la fine del politico, quindi la fine dell'ostilità. Perfino quando il tuo obiettivo è la naturalizzazione, l'unico tuo contenuto politico è la naturalizzazione della politica, in quanto epistocrazia, in quanto tecnocrate, perfino allora, direi soprattutto allora, il massimo dell'ostilità moralizzata viene fuori. E qui ci sono ragioni di fondo, se si vuole antropologiche, antropologico-politiche, non te ne liberi di questa cosa. E quando anche quello che diceva Agamber, proprio perché la dipendenza reciproca data dalla condizione politica implica delle dinamiche di potere, che sono anche dinamiche potenzialmente di dominio, almeno a rischio, e di assoggettamento, diciamolo così, deve prevedere dei contrappesi. È il lato comunque dello Stato costituzionale di diritto che possiamo difendere, vogliamo difendere. Il punto è che nel momento in cui tu rimuovi il politico, cioè non è più un fatto politico, non c'è più la politica, non c'è bisogno di pensare, non c'è la politica nemmeno come immaginazione di alternative, non c'è la politica come conflitto, non c'è la politica come potere che si pone esplicitamente come una forma di coazione. Come dire, si tratta solo di assecondare l'implementazione di dinamiche algoritmiche. Ecco, tu hai il massimo del dominio e il massimo dell'ostilità. Naturalmente la devi riverniciare, ma non solo propagandisticamente, in chiave moralistica. Secondo me è proprio di convincere il profondo. E se è così, è un casino, perché se uno si convince nel profondo, quindi è un dato antropologico, di incarnare l'assoluto morale, è pronto a tutto. Può, e l'abbiamo già poco conosciuto, sperimentata questa dinamica, nel Novecento, è il rischio, però era il rischio della politica assoluta questa, questo è invece il rischio dell'antipolitica assoluta, la chiamerei così, c'è un paradossi, è l'antipolitica dall'alto, hanno tanto rotto le scatole sull'antipolitica dal basso, ma questa è l'antipolitica dall'alto, per certi aspetti, diciamo così. E quindi si afferma un ordine che si fonda sul principio di discriminazione, prevenzione e controllo. e che si propone, propone, veicola come non politico, in odore. Perché sai, una forma, in fondo, appunto, il fascismo lo si poteva combattere a un certo punto, ci potevi sperare, ma qui che vuoi fare? E' come se ci dicessero, ma siete dei poveri illusi, ma dove andate? Allora, io sono convinto che tutta l'illusione, anzi, a ragione Agamben, magari prepara la fine, prepara la sconfitta. So bene che dall'altra parte c'è tutto il potere, tutto, tutti gli strumenti, hanno tutto. Però, siccome sono convinto che l'umano non sia schiacciabile, ci sia qualcosa di irriducibile, penso che qualcosa risorgerà. E sta risorgendo, ecco il discorso del significante, del Green Pass come significante che può unificare, attraverso un'esperienza anche trasversale, anche nelle piazze, di comunità. Di persone che si riconoscono. Cosa che non ci ricapitava da un'infinità di tempi, a me forse non è mai capitata, non ne ho manco mai vissuta. Cioè ho un vago ricordo venendo dalla Toscana di quella che era l'esperienza alla fine, lo so, del popolo comunista, forse queste cose qua. Ma, insomma, era finita praticamente. E allora questa cosa è preziosa, è preziosissima. Dopodiché so bene che ci manca l'organizzazione, ci manca il riso, ma se uno lo vuole tradurre in politica, che pure sarebbe necessario, manca tutto. Però c'è questo livello pre-politico che è la premessa necessaria di qualsiasi cosa. Questa è una crisi spirituale, spirituale, che è originata da dinamiche materiali, economico, sociali, che poi hanno invaso la politica, hanno consumato dall'interno la democrazia e anche la Costituzione. Ma alla fine è una crisi spirituale, perché cos'è la dinamica nichilistica del mezzo fino a se stesso? Cioè è questo, è l'idea che la modernità, cosa che combatto furiosamente, perché non penso affatto che il moderno sia solo questo, manco per niente, però alla fine si riduca a questo. È come dire, il green pass è la verità nichilistica del moderno. Cosa mi fa orrore e che combatterò tutta la vita, finché ci avrò la possibilità. E che credo sia anche un falso, sia anche un'autoillusione, perché non è nemmeno vero. È un riduzionismo, è una semplificazione. Ma del resto il neoliberismo è un grande riduttore, è un grande semplificatore. Immagina una società, anzi una società non c'è. L'unica inclusione sociale possibile è quella del mercato, già gli ordi liberali lo pensavano. E che cosa è fatta? È fatta di grucce a cui si appendono degli abiti. Cioè gli individui sono delle grucce a cui si appende qualsiasi abito, può venire da ogni parte, non c'è una storia, un'identità, un radicamento, non c'è un accumulo di artificialità. Sono delle astrazioni. È un modo di leggere la forma di vita, la società collettiva, la forma di vita in società credibile? No! Quindi o hanno ragione loro, è una filosofia della storia che nega se stessa, ma lo è, e si sta determinandola al transito postumano, oppure ci sarà lo spazio di un catechon. E dobbiamo farcene carico in qualche modo noi, nel senso perlomeno di continuare a fornire analisi critiche, idee, ecco almeno questo. E poi, insomma, ci possono sempre essere degli eventi, delle cose che aprono una strada. Dopodiché bisogna, io credo, allora che abbiamo? Abbiamo poco. Perché la domanda è che fare, tanto per cambiare è cosa abbiamo. La stessa domanda in fondo di Agambena, no? Abbiamo, diciamo, dei giovani, i giovanissimi, proprio giovanissimi, cioè quelli da vent'anni, finalmente, hanno capito in parecchi. Quindi sono consapevoli, anche preparati, molti, qualche intellettuale critico, diciamo, ma certo, non siamo tanti, mettiamola così, quindi la questione delle intelligenze. E poi ci sono dei, però, dei ceti popolari, ci sono dei pezzi di società incarnata, che sta, fa la vita reale, fa lavori manuali. E quella, secondo me, è una cosa, è un pezzo, non banale, di società. Non banale, che va rappresentato, perché il vero dramma che abbiamo è che non c'è una rappresentanza e un'organizzazione di questi. Ed è la domanda che ti fanno sempre, tutti, a chiunque noi ci è capitato. Ma mi è capitato più volte, anche quest'estate, di parlare nelle situazioni più strane, al mare. Il problema non è che far capire, basta andare là e subito ti dicono, ah no, ma io sull'euro ho capito una cosa. No, ma sì, anche sulla questione della pazienza, questo non funziona, ma io non ci credo tanto a questo. Hanno capito di più, dei nostri colleghi, della gran parte, Ugo, diciamocelo. Il problema è che ti dicono, eh ma la prima volta c'erano i sindacati che organizzavano, una volta sapevamo dove andare, c'erano delle piazze, vabbè, ora si sono create, un po', però certo, più o meno spontaneamente, spontaneisticamente, comunque che facciano paura lo dimostra il fatto che le stanno proibendo, che le vietano, gravissimo, gravissimo. Quindi qualcosa ci abbiamo, non è tantissimo, ma qualcosa abbiamo. Chiudo su, diciamo su una cosa che qui, diciamo, dobbiamo, sentendo tutti i discorsi, scusa lavorare secondo me, cioè, come è stato possibile un crollo del genere? Cioè, perché è accaduto? Allora, c'è un, naturalmente è una questione che in parte riguarda molto l'Italia, perché l'Italia è il laboratorio di questo, il laboratorio degli orrori, è il primo paese in cui accade un lockdown nazionale generalizzato, e questo vuol dire che è stata individuata, aveva delle fragilità, non so se è stata individuata, ma insomma aveva delle fragilità che la esponevano molto. Però è un problema poi dell'Occidente, con delle differenze interne, forse bisogna anche capire delle differenze, ecco, queste differenze geopolitiche, geoeconomiche, vanno capite, studiate e forse anche valorizzate. Cioè, forse c'è anche un fronte su questo, ci sono delle crepe in cui ci si può inserire. Lo stesso detto, sistema delle ecocenter, no? Certo. In tutto il mondo è così. No, non è vero. Ma neanche in tutta Europa è così. Ma no, certo. Certo. Per cui, se è così a New York e a Parigi, allora in tutto il mondo è così. È così in Italia e a Parigi sì, più o meno, ma altrove no. Non è così in Regno Unito, non è così in Svezia, non ne parliamo, non è così in Germania. Comunque un po' più di cautela, soprattutto su alcune questioni, c'è. Insomma, questo va valorizzato, secondo me, bisogna tenerle conto. Io la leggo nei termini, appunto, di una teologia politica al tempo della negazione della teologia politica. Cioè, questa è una teologia sanitaria. Ma l'elemento fondamentale non è, però è un'ipotesi di lavoro, non so nemmeno bene io, non è il fatto medico. E' che il fatto, che il riferimento sanitario rappresenta un aggancio antropologico elementare. Cioè, è come se, una volta che hai destrutturato tutto, le istituzioni, i partiti, i corpi intermedi, la lembratura della società civile, in effetti che ti rimane? Ti rimane il corpo. Ti rimane la meravita, diciamo, se si è il corpo. E il corpo è quella, è l'unica cosa in cui puoi credere, non c'è niente da. Ma, almeno per molti, sono attaccati a quello. Ma non è che ognuno di noi è attaccato più o meno al suo corpo. Però il fatto che sia l'unica cosa valorizzabile, ci sta dicendo che, appunto, è l'unica cosa in cui possiamo credere. E quindi anche la strumentalizzazione della salute, demolita dal punto di vista strutturale e sostanziale, in questi 30 anni, ma ora riscoperta e rilanciata, sta in questo. E ti do una compensazione identitaria moralistica. È un moralismo senza morale. Ma, ma sembra forte. Guardate, ha una potenza enorme questa cosa. Perché, perché, se la metti in discussione, sei contro la salvezza. Non vuoi la salvezza degli altri, dei vecchi. Non ti preoccupi, pensi solo a te stesso. Non ti preoccupi di ciò che veramente conta. Ma non è il benessere, è la salute. La salute è intesa come un corpo che persiste. E cioè, non vita qualificata. Ovvero, non è un caso che nell'epoca della spoliticizzazione, l'unica teologia, cioè l'unica grande visione del mondo possibile, è quella della vita dequalificata, cioè della vita in politica. Quindi, alla fine, abbiamo bisogno di una ripoliticizzazione, direi. Che è fatta di vincoli di solidarietà, certo, appunto, le si diceva prima, che non è che li imponi dall'altro, li devi sentire. Io non avevo mai sentiti così. Cioè, c'è proprio un senso d'amicizia. Cioè, io mi rendo conto che incontro delle persone con cui so che condivido questa cosa qua. No, anche un ugo, a dire la verità, ma ancora saremo indistenti su alcune cose, ma c'è, è un fatto essenziale. Quindi, in questo senso, è anche una cosa bella, devo dire. Dopodiché, poi, il potere c'è e i problemi di come almeno imporre un compromesso ce li dobbiamo porre. In questo io sono per un realismo critico. Cioè, è bene che risorgano energia, persino spirituale, direi. Tanto senza quella non si va da nessuna parte. Però dobbiamo trovare la maniera. Per rispondere alla domanda di quelle persone che ti dicono, sì, che facciamo adesso? Dove andiamo? Chi ci organizza? Chi ci rappresenta? Che dobbiamo fare noi? E questo è il punto vero. Cioè, come rigenerare un'eccedenza politica alternativa? Come fare massa critica, diciamo, da queste esperienze che però sono preziosi. Quindi, partiamo da qui. Grazie.